La festa patronale torna ad animare le strade della nostra città e a far da ponte sia l'aspetto religioso che culturale e folcloristico che appartiene alla storia bituntina. Ritengo che sia necessario un tempo della fede, la festa patronale nasce innanzitutto come tempo della fede, poi è tradizione popolare, è memoria storica e ovviamente non può essere scisso l'elemento folcloristico dall'elemento culturale, anzi da sostanza anche il culturale e il folcloristico. Questo spiega la ragione per cui i tempi della festa comportano il momento del concerto lirico, il momento comico, abbiamo una sorta di rappresentanza di comicità pugliese con il duo Tutti e Tata, Però poi abbiamo anche l'elemento squisitamente culturale perché scie luminosissime non è lo spettacolo di danza aerea e ad avere anche contenuti culturali precisi. Il fatto di voler collegare la storia della battaglia all'elemento favoloso del miracolo, all'elemento colto dell'infinito leopardiano, al collegamento di quelle che sono le immagini più significative della Galleria Nazionale, che è come dire poi della storia dell'arte o comunque della nostra storia dell'arte, cioè quella che conserviamo nella Galleria Nazionale, dice l'interesse per un collegamento di fatti squisitamente culturali in uno a quello che è poi il tempo delle luci, il tempo dei suoni, il tempo delle macchine di Porta Baresana. La festa dedicata all'Immacolata farà da preludio a tutte le attività e i festival che il Comune riserverà per la stagione estiva. Il Comune di Bitonto sostiene la festa patronale attraverso una programmazione culturale ampia, qualificata, incrociata anche ad altri eventi del Comune, penso al Traetto Opera Festival, penso a Corti di Aperti, penso all'ultimo spettacolo della stagione teatrale che apre il programma della festa patronale, ma soprattutto con i due eventi clou di questa festa patronale, cioè il grande spettacolo inedito, scie luminosissime con Elisa Barucchieri, Raffaello Fusaro, Costantino Carrarro, Sella Giuliano e altri grandi nomi, Bitontini e Pugliesi, che è il 25 e il 27 con lo spettacolo finale con Totiettata, il Cotto e il Crudo. Quindi due spettacoli importanti che sono anche attrattori culturali e turistici e vanno ad arricchire il programma creato in collaborazione con il Comitato Feste. Non mancheranno le novità anche per l'effigie che sfiderà in processione e per la statua che svetta su Porta Baresana. Aggiungiamo poi anche un ulteriore elemento che caratterizza la festa patronale di quest'anno, cioè realizzare o portare a completamento quello che è stato un lavoro iniziato l'anno scorso, cioè il restauro dell'Immacolare di Porta Baresana. C'eravamo impegnati a realizzare anche la corona, una nuova corona, cosa che avverrà la sera del 24 e quindi anche l'elemento dell'Aureola perché la corona è la regalità della Vergine.